olos bio staminalia crema notte no age viso formato 50 grammi una crema ricca in cellule staminali vegetali di mela verde e arricchita anche concessore d'ossigeno le cellule staminali vanno a rigenerare le cellule epiteriali madre della nostra pelle con in questo modo favoriremo una prevenzione della formazione di nuova ruga rigenerando anche il tessuto vi consigliamo di utilizzarla di notte dopo la detersione